Edoardo Gigliotti del Gigliotti Team di Nuoro. Nel fine settimana la squadra ha partecipato ai campionati nazionali di lotta libera ottenendo degli ottimi risultati. Sì, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nonostante la pandemia. Abbiamo pulato un ragazzo, Francesco Carbone, nella 61 kg. Ovviamente anche mio fratello Marco, nella 86 kg e io nella 97 kg. Per Francesco è stata la prima gara, si è comprato molto bene, ha trovato avversari molto importanti, molto bravi e questo spero che sia un buon auspicio per affrontare le prossime gare. Poi lo stesso mio fratello ha vinto il primo incontro, il secondo incontro si è trovato un atleta molto preparato dove non è riuscito a prevalere. Successivamente sono entrato io, ho fatto i 97 kg, ho fatto 4 incontri, ho vinto i primi 3 incontri e poi in finale ho perso con un'altra età molto esperta dell'esercito che è Juan Quagliedo, che è in preparazione per le Olimpiadi. I risultati ottenuti nonostante in questi mesi non abbiate potuto allenarvi in palestra perché non è disponibile. Cosa chiedete al Comune in vista dei prossimi appuntamenti di fine aprile? Noi chiediamo un locale idoneo per affrontare queste competizioni agonistiche perché la lotta serve un locale dove prepararsi. All'aperto ci puoi allenare atleticamente e questo va bene, però per allenarsi a lotta serve un locale, un locale idoneo rispettando tutte le regole. Volevo ringraziare la chardonnale judo lotte del maestro Raffaele Cocco e Imbra Cocco perché ci hanno permesso di allenarci nonostante questo problema del covid e soprattutto anche Rudy Agus dalla Power Gym per la parte atletica.